Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari in apertura del nostro giornale l'ampia pagina dedicata alla situazione della Banca Popolare. Questa mattina presidio dei sindacati, dei lavoratori preoccupati per gli effetti sugli oltre 3 mila dipendenti e di notizia di poco fa i sindacati hanno incontrato i commissari Enrico Aiello e Antonio Blandini all'interno della sede centrale dell'istituto di credito in Corso Cavour. L'incontro è durato pochi minuti e si è chiuso con la promessa ai sindacalisti di essere insieme artefici del risanamento e della ripartenza della banca. Ma intanto vediamo cosa è accaduto questa mattina. Scontro politico accusa veleni ma soprattutto tanta paura. I fari sono tutti puntati sul salvataggio della Banca Popolare. È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 16 dicembre scorso che contiene misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del mezzogiorno per la realizzazione di una banca di investimento ovvero le misure di rilancio dell'istituto barese da venerdì in amministrazione straordinaria da parte della Banca d'Italia con lo stanziamento pubblico da 900 milioni di euro. L'obiettivo è quello di scongiurare ed imporre costi anche agli abblighi azionisti e ovviamente i circa 70.000 azionisti che hanno già visto l'assottigliamento del loro investimento. E intanto spuntano degli audio dell'amministratore delegato della Popolare Vincenzo De Bussis mentre il 10 dicembre scorso parlava ai manager della banca. In quel file pubblicato dalla testata fanpage pochi giorni prima del commissariamento venivano rassicurati i manager sul fatto che non ci fosse alcun rischio dopo tre giorni il commissariamento. Oggi i sindacati 5 le sigle riunite hanno acceso un altro faro sui dipendenti circa 3.000 in 13 regioni. Per questo si è tenuto un sit-in per lanciare un messaggio ai commissari e nessun lavoratore sia sacrificato. Il clima è di grande incertezza per un piano industriale che al momento non si conosce. Il timore che come spesso accade il nuovo disegno comporti una diminuzione dei livelli occupazionali. Le paure sono, noi rappresentiamo i lavoratori e quindi le prime paure sono per i dipendenti ma anche per i clienti. I clienti possono stare tranquilli perché è intervenuto lo Stato e quindi non c'è preoccupazione per i depositi ma resta una preoccupazione per il futuro dei lavoratori perché non sappiamo che modello di banca verrà fuori dalle decisioni del governo che si sta accapigliando su questo tema della Banca Popolare di Bari. Non sappiamo che piano industriale verrà fuori, che tipo di servizi offriremo a una clientela. Qui si parla di azioni, di azionisti però bisogna tenere in considerazione anche i 3.000 dipendenti con le rispettive famiglie sotto questo punto di vista. Temete il rischio che ci possa essere un sacrificio dei dipendenti in futuro? Allora noi ci auguriamo di no perché il sacrificio l'abbiamo già fatto negli anni scorsi con delle giornate di solidarietà che abbiamo dato all'azienda. Queste giornate sono servite per sanare i conti dell'azienda però abbiamo visto un po' tutti che non è servito assolutamente a nulla. Noi come dicevo prima aspettiamo questo piano industriale, vediamo che cosa contiene. E' chiaro che temiamo il taglio ai costi del personale perché in tutte le aziende quando si fanno i piani industriali si tocca sempre i tagli al personale. Però noi ci siamo in maniera molto forte qui perché dobbiamo far capire ovviamente anche ai commissari che diamo il tempo anche di organizzarsi. Che dobbiamo ancora incontrare i commissari? Qui c'era già un piano industriale immaginario dall'anno scorso, ci avevano detto vi presenteremo il piano industriale il 21 gennaio. Ok, è arrivato il gennaio dell'anno dopo, il piano industriale non si è visto. Quindi sino a quando i commissari non ci diranno che tipo di piano industriale vorranno adottare, noi non siamo sicuri. Però una cosa è certa, lo dico apertamente, noi della Fabi come tutti gli altri segli sindacali, a un solo licenziamento di dipendenti, a un solo esubero scateneremo l'inferno qua perché non è più possibile a questo punto che devono pagare sempre i più deboli. E parlo dei lavoratori, delle lavoratrici, non mi stancherò mai, e anche dei correntisti, e anche degli azionisti. E come già detto in apertura, dopo questo servizio, pochi minuti fa c'è stato l'incontro tra le sigle sindacali e i commissari. Andiamo avanti, restiamo sul tema perché il Codacons ha presentato, esposto alla procura di Bari e Roma contro Banca Italia sul caso legato alla Popolare. L'Associazione dei consumatori chiede di verificare se la Banca d'Italia abbia omesso di vigilanza ed anzi concorso nel crack della Banca e di disporre il sequestro dell'elenco dei debitori della Popolare, allo scopo di verificare a chi siano stati concessi i prestiti, a quali condizioni e sulla base di quali requisiti. E intanto l'avete sentito, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 16 dicembre con il quale il Governo ha varato il piano di sabataggio della Banca Popolare. Quali sono gli effetti? Lo abbiamo chiesto all'Avvocato Massimo Melpignano, responsabile Banca e Finanza di Consumer Italia. Sentiamo. Questo decreto che entra in vigore oggi è un po' complicato dal punto di vista tecnico. Prevede un meccanismo per il quale il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrà dare dei soldi a Invitalia che dovrà poi a sua volta darli a Medio Credito Centrale, soldi vincolati che serviranno per rifinanziare le attività bancarie e finanziarie del Sud. Nel decreto non si fa un'espressa menzione della Banca Popolare di Bari, questo è corretto dirlo e qui prestiamo però a quello che il Premier e i Ministri hanno riferito. Che cosa accade a chi ha rapporti passivi con le banche, quindi mutui o finanziamenti? Niente, bisogna continuare a pagarli esattamente come prima, a pagarli puntuali perché sono rapporti di tipo passivo, come diceva lei, debiti che devono essere rimborsati, quindi tutto deve proseguire normalmente. Per chi ha depositi, quindi liquidità all'interno della banca? C'è una forma di garanzia, nei vostri schermi ne abbiamo parlato spesso, fino alla liquidità per 100.000 euro, su quello c'è una garanzia apposita che protegge il correntista nel caso in cui dovessero verificarsi eventi nefasti. Per azionisti e obbligazionisti invece? Continua la disavventura, di cercare di ottenere nei tribunali a questo punto, fin tanto che non si deciderà in maniera organica di affrontare questo problema, di ottenere giustizia. Questo decreto non affronta il problema degli azionisti e degli obbligazionisti, semplicemente non se ne parla e questo è bene dirlo con chiarezza. Ultima pagina e parliamo degli ex mercati di Via Cagnazzi e Via Carrante, sono soltanto alcuni degli immobili di proprietà comunale finiti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni. Ce ne parla Serena Russo. Una ricognizione effettuata dalla ripartizione patrimonio con l'obiettivo di procedere al riordino alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Bari che terminata, finisce nero su bianco nel piano delle alienazioni. Un elenco non da poco che ne determina la classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo ovviamente il rispetto delle tutele di natura storico-artistica e del diritto di prelazione di coloro che, avendo già il godimento del bene, intendano acquistarlo al prezzo d'asta. Ma quali sono questi immobili la cui eventuale vendita andrà a inserirsi nel percorso di miglioramento dei conti pubblici? Vediamone qualcuno. Sono inseriti nel piano approvato giorni fa in Giunta, ad esempio, sette appartamenti in Via Giulio Petroni e sei in Via Napoli, ma solo per citarne alcuni. Spicca l'ex Mercato Coperto di Via Cagnazzi, piano semi-interrato e piano rialzato, per un valore di poco meno di 5 milioni di euro, l'ex Scuola Colli Grisoni per 3 milioni e mezzo e l'ex Mercato Coperto di Via Carrante, il cui valore è stato simato sui 3 milioni e 7. Finiscono anche tra le possibili alienazioni l'ex Bar Pizzeria all'interno della Pineta di San Francesco, abbandonata da anni, Masseria Borracci per 787 mila euro e gli ex Impianti Sportivi Debar in zona Mungivacca per 870 mila euro. Piazzetta Eleonora, ex Mercato Coperto, area bimbi di Piazza Nettuno. Ci chiamano da San Pio per denunciare le condizioni della zona. Guardate. Chiamano da San Pio per denunciare le condizioni di Piazzetta Eleonora, inaugurata neanche troppo tempo fa. E' Pasquale Sasanelli, ex consigliere municipale che ci fa da Cicerone, tra i mattoni distrutti dell'area relativamente nuova e tra i pali della luce piegati dagli urti con le automobili. Sì, perché tra le più sentite critiche rivolte all'amministrazione comunale, spiega Sasanelli, c'è quella di aver continuato a consentire il passaggio delle macchine. Diciamo che noi, io come Presidente all'epoca della Commissione Lavori Pubblici, avevo fatto la chiusura di questa piazza. Oggi come oggi, diciamo, la piazza è rimasta ancora aperta alle macchine e è diventata un colabrodo per quanto riguarda la pavimentazione. E non è degno la nostra, diciamo, la nostra zona avere una chiesa così bella e avere un pavimento che è diventato un colabrodo. Io spero che l'assessore Galasso abbia il piacere di venire a farsi una passeggiata in modo che vede tutte le lacune che stanno in questa piazzetta. Non va meglio per l'ex mercato coperto, certo, in condizioni migliori dopo l'abbattimento delle pareti interne, ma la cui struttura, oggi utilizzata come parcheggio, ancora si presta all'abbandono selvaggio di rifiuti, a pochi passi, tra l'altro, di un deposito amio. Il mercato è un mercato che, diciamo, il sindaco di Bari aveva promesso a questa gente di abbatterlo. Hanno tolto i muri, diciamo, l'impresa, che io l'impresa l'ho ripresa pure. Dico, ma scusi, ma per quale motivo voi i detriti li state buttati? Questi sono gli ordi che abbiamo avuto dall'amministrazione. Praticamente, diciamo, tutti i detriti che sono stati tolti all'interno di questo mercato li hanno buttati sul terreno. Oggi, come oggi, se qualcuno dell'amministrazione centrale viene a vedere, diciamo che là c'è anche il deposito dell'amio, è diventato proprio uno scembio per il nostro territorio. Si attendono risposte, invece, per l'area giochi per bambini semidistrutta in piazzetta Nettuno. E siamo alla classifica Comuni Ricicloni 2019. va di conquista il quinto posto tra i capologhi di provincia, passando dal 39,9% al 43,3%. Questo è il risultato della dodicesima edizione di Comuni Ricicloni in Puglia, evento che ogni anno conferisce un riconoscimento alle amministrazioni che si distinguono per le alte percentuali di raccolta differenziata e attività di controllo e contrasto dell'abbandono dei rifiuti. Si regista, rispetto agli anni passati, un incremento di 32 comuni nella classifica che vede posizionarsi al primo posto Bitritto, seguito da Motta Monte Corvino, Casa Massima, Turi e Bitetto. Il rapporto è stato presentato questa mattina all'Hotel Excelsior di Bari, diretto da Francesco Tarantini, presidente di Lega Ambiente Puglia, che ha commentato che per rendere virtuosa e circolare l'economia in Puglia serve ridurre la produzione dei rifiuti e realizzare impianti di riciclo, di trattamento e recupero della frazione organica dei rifiuti, conclude Tarantini, responsabilizzando i cittadini con una capillare informazione. Bene, siamo in chiusura di questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che l'informazione di Telebari non finisce qui, ma continua sul nostro sito www.telebari.it. A tutti voi, grazie per averci seguito e vi auguro un buon prossimo momento di giornata. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it Ben trovati da Nikos di Trebimeteo, mercoledì, una configurazione barica a livello europeo più dal volto autunnale, con questa profonda zona di bassa pressione che dalla Spagna si avvicinerà alle nostre regioni, posizionata proprio tra Sardegna, Mediterraneo, Occidentale, con un gran carico di nuvolosità e anche delle precipitazioni che bagneranno, soprattutto al nord, ed il versante tirrenico. Andiamo alla mappa della nuvolosità, ci conferma una gran variabilità, nubi regolari di passaggio più compatte al nord e sul medio-alto versante tirrenico, Sardegna con precipitazioni. Giornata quindi spesso grigia, molto umida, clima fosco e uggioso, clima però non freddo perché appunto i venti richiamati da questa zona di bassa pressione sono da sud, non siamo ancora interessati da masse d'aria fredde. Andiamo a vedere la prossima grafica in sintesi con le piogge che bagneranno l'alto nord-est, soprattutto Friuli Venezia Giulia, alto Veneto e poi il nord-ovest, ma in giornata guardate gli acquazzoni sulla Sardegna, il maltempo. In lento movimento queste precipitazioni, questi fenomeni, anche sulle regioni tirreniche, specie tra Toscana e Lazio. In sintesi, la prossima grafica, ombrelli aperti su parte del versante tirrenico e Sardegna, anche il nord-ovest e l'alto nord-est andranno un po' meglio invece sul medio-basso adriatico, ma con variabilità. Temperature che al sud, all'estremo sud, ancora sfioreranno quasi 20 gradi. Seguite gli aggiornamenti sul nostro sito web o scaricando l'app di Trevi Meteo. Il meteo è offerto da SGServiceSud.it